Il Ministri ha detto che chiuderemo i porti alle navi non governative straniere laddove l'Europa non interverrà. Hanno scritto e hanno mandato il rappresentante in Europa. Il commissario europeo all'immigrazione, il greco Avramopoulos, ha detto chiaramente primo, la gestione di questo fenomeno dipende da leggi internazionali, quindi se l'hai lavato le mani. Secondo, l'Italia deve fare il suo dovere, che è quella di accogliere tutti. Terzo, se volete vi diamo un contentino, qualche spicciolo in più, 35 milioni di euro per fare nuova accoglienza. Quindi l'Europa ha già risposto picche alle richieste del paese. Io adesso mi attendo che Minniti, che è una persona seria, che ha fatto però un decreto, un decreto di immigrazione che doveva risolvere il problema, non ha risolto, non ha contenuto assolutamente il problema, ma è una persona seria, faccia esattamente quello che ha detto. C'è quello che ha detto tre anni fa la Lega e Matteo Salvini, cioè che non possiamo accogliere il mondo intero. Giustamente prima la Fusani ricordava le nazionalità dei popoli che sbagliano. Sì, Bangladesh non c'è la guerra. Bangladesh è dall'altra parte del mondo. Sono sbarcati, tra i numeri, sono sbarcati 4 mila dal Marocco. Il Marocco è esattamente di fronte alla Spagna. Perché non vanno in Spagna? Semplicemente perché Spagna non li accoglie. Poi io arrivo a lei. Allora, se dal 2013 ad oggi sono sbarcati 600 mila immigrati, clandestini, rifugiati, richiedenti asilo, il governo si sveglia oggi, a rendersi conto che siamo di fronte a un problema epocale.